Il clima sta cambiando e il cambiamento deve essere affrontato da tutti. È un problema globale che ci riguarda da vicino. Inondazioni, trombe d'aria, siccità. In Italia temperature in costante aumento causano eventi atmosferici estremi sempre più frequenti. Ma agli impatti del clima che cambia possiamo rispondere con azioni che possano rendere i nostri territori più resilienti, proteggendo in questo modo le persone, l'ambiente, la nostra economia e riuscendo a sfruttare le opportunità che potrebbero sorgere. Life Master ADAPT aiuta regioni e enti locali a fare dell'adattamento ai cambiamenti climatici un'opportunità per il proprio territorio, un elemento chiave da inserire in piani e strategie. Life Master ADAPT coinvolge in modo partecipato cittadini e decisori politici, con momenti di formazione per aumentare le conoscenze sui rischi climatici nei diversi territori. Life Master ADAPT vuol dire fare rete, collaborare e scambiare buone pratiche in contesti locali e internazionali. Con il sostegno di Life Master ADAPT, alcune regioni, aree metropolitane e aggregazioni di comuni stanno agendo prontamente per prevenire e limitare i danni derivanti dai cambiamenti climatici. In Sardegna, Life Master ADAPT ha contribuito alla definizione della strategia regionale di adattamento, mentre i comuni della rete metropolitana del Nord Sardegna e della città metropolitana di Cagliari sono stati supportati nella predisposizione di piani di adattamento comunali e nella pianificazione strategica territoriale. In Lombardia, il Piano di Azione Regionale per l'Adattamento al Cambiamento Climatico ha posto le basi per l'analisi di vulnerabilità, l'implementazione di otto azioni locali di adattamento e l'adozione della carta sovracomunale per l'adattamento da parte di sette comuni della Valle del Seveso. Con l'Unione dei Comuni del Nord Salento, Life Master ADAPT ha affrontato il problema della carenza idrica, proponendo indirizzi sia per il riutilizzo di acque piobane che per il riuso, in agricoltura, di acque trattate dai depuratori esistenti sul territorio. Life Master ADAPT è anche in Veneto, dove i comuni della città metropolitana di Venezia hanno avviato una strategia comune per l'adattamento del territorio al clima che cambia. Il cambiamento climatico è la sfida del nostro tempo. Affrontiamola insieme. Video realizzato con il contributo dello strumento finanziario Life dell'Unione Europea